TORMITI! POTENZA DEGLI ELEMENTI! ENERGIA DEL MAGMA! COMBATTI! COMBATTI! SABURO! IL SIGNORE DELLA SPADA! YA! YA YA YA! UGH! 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 Eclipsion, sei ancora in tempo per ripensarci. UGH! UGH! GORMITI! POTENZA DEGLI ELEMENTI! UGH! 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 Zephyr! Tempesta stellare cosmica! Wow! Tempesta cosmica! Non posso contrastare l'attacco di Klobock senza l'aiuto di Herod! Ok, abbiamo un problema. Grazie a tutti.